un'altra un'altra ora non mi aspettavo neanche, cioè volevo chicarmi da sotto di più sotto di più cioè pensavo che... io so che facessi più paura a sto gioco però dai ci sta ci sta c'è abbastanza oh merda fuggi dal manicomio cos'è sta roba questo è morto tutti morti siamo qui accogliami documenti jake come si legge allora il protocollo la 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 la.. hm qui chi sei da te chi è sto qui? guarda ma è vivo sto qua vado non lo so eh li vedi se monta a voi li vedi su qua? li vedi dimmi cammini posso sgazzarlo da dietro no cosa devo fare? devo passare di fianco non vuoi ucciderti prego come ti chiami? che faccia qua? oh cazzo ma tome chi si stuco su buone mi prego ah bello ehm non è che mi possono dare degli aiuti per uscire da sto posto non è buono che vero ehm no non ti amici mi fa sto qui come adesso guarda le braccia ehm la raccolta penso che devono andare in giù ma che so sti rumori di merda eh chiuso tutto chiuso sto posto c'è sto qua che sospira ah quello è morto vabbè sono sostituto che mi sarei incavolato ma che cosa serve sta posto c'è la chiave scusa ah ma non posso è una chiave elettronica una cosa così è una chiave elettronica una cosa così devo uscindere malamente secondo me stiamo nel bordo anzi no qua ah no ahahah 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 devi morire porco porco non mi lasci stare anche se ti filmo? ti posso filmare? il tuo bello umbilico e la il tuo addominale se ce lo hai ahahah 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 guardia grande scuola devo scappare sto posto di merda merda bisogna su alcun studio che stavo risuscitando una cosa del genere non ok adesso andiamo a vado proviamo per andare lì a chiuso non so la prima cosa che mi capita non so vabbè proviamo merda santo dio che colpa tipo c'è qui buonasera 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 riusciamo che è meglio qua cosa ci è gli intestini proprio quelli che piacciono a me una testa questa è più buona però un altro intestino che c'è qua madonna che belle scene ciao frate una batteria in più ci fa bene una batteria mi sto guardando pc dell'hp che si illumina sgavati sgavati perchè si chiuse la porta c'è non 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 la c'è qui si chiuse mi arriva un mostro un frutti per per non no chiesto timagini riuscire quindi chiesto faccio vediamo dietro cosa fa perciò scopo 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 lascia la vita scopo 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 non ci vedo un cazzo dove cazzo vado dove cazzo vado mi sembra una merda scopo dove vado adesso non sto qua dietro prego apriti prego apriti merda è morto merda sta cosa qua scopo oddio come l'ha scrivato dove vado vado dove vado vado qua giù per le scale vai zio scappa non ci vedo più un cazzo per vabbè dai fanculo Entra! Su, mi do! Oh, mi sono salvato stavolta! Grazie, Romina! Ma se ne va via!